A tradirlo è stato proprio il suo atteggiamento nervoso durante un controllo e così per un giovane pusher sono scattate le manette. È successo a Montevarchi dove i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno nel corso dei consueti controlli del territorio hanno notato tre ragazzi con un atteggiamento sospetto nel centro cittadino. I militari hanno deciso così di fermarli e dopo la verifica dei documenti, visto l'atteggiamento nervoso, hanno proseguito con le perquisizioni. Addosso ad uno dei tre ragazzi i carabinieri hanno trovato una dose di hashish e 430 euro in contanti. Il controllo è poi proseguito anche a casa del giovane dove i militari hanno trovato altre 11 dosi di cocaina già pronte per lo spaccio, 90 euro e tutto il materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Lo spacciatore è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza che sarà celebrata con rito direttissimo come disposto dall'autorità giudiziaria.